Ciao ragazzi, come state? Allora, andiamo a assaggiare questa Blanca de Limoux, siamo in Languedoc, siamo appunto a Limoux e si chiama Zelie. Il vino si chiama Zelie. Chi era Zelie? Zelie era una giovane donna che nasce nel 1840-1842, povera, non poteva andare a scuola, si dedica all'agricoltura, fino ad arrivare al punto nel 1860, dopo una serie di traversie, a creare il suo primo vigneto. E storicamente è la prima donna produttrice di spumante metodo classico, storicamente. Tra l'altro, in questo caso, parlando di Blanca de Limoux, tenete presente che la Blanca de Limoux nasce prima, anche in questo caso testi storici, nasce, testimoniano, che nasce prima dello stesso champagne e qui nascerà la solita diatriba. Comunque sia, non ce ne frega niente delle diatribe, questo è un Brut Nature, che adesso andiamo ad assaggiare, ottenuto da uve 100% Moussac. Poi, per disciplinare, si può ottenere, si può utilizzare anche una piccola percentuale di Chardonnay o Chenin Blanc, ma in questo caso è 100% Moussac, che appunto, in zona, in loco, viene chiamato Blanchette, perché comunque, per quella fioritura bianca che si nota poi sulle bucce, quella particolarità, e da lì la chiamano così, quasi un bezzeggiativo Blanchette, e diventa appunto la Blanchette de Limoux. Stiamo parlando di uno spumante, metodo classico, in questo caso, 30 mesi di affinamento sugli bottiglie. E adesso ne andiamo ad assaggiare. Facci qua. Allora, buono il perlage, direi quasi ottimo, in questo caso. Il vino al naso è pulito, di buona intensità e persistenza. Allora, tipici profumi che troverete in questo vino sono, avrete dei ricordi di miele, miele fresco, di limone, di lime, agrumi. Noterete anche dei ricordi di fieno, e poi ancora odori di mela, mela verde in questo caso. Al palato, questo è un brut nature, quindi al palato, rispetto a quello che può essere un extra brut, ad esempio, avrà un altro tipo di espressione, che adesso andiamo a vedere. E al palato troverete un palato che gioca molto sullo slancio, un palato che gioca molto sulla freschezza acida, un palato che gioca molto su questa CO2, su questa bollicina fitta, di buona fittezza, sottile, puntigliosa. La sentirete incisiva al palato. Quindi se vi piacciono gli spumanti, i metodi classici, con questa bollicina sottile, fitta, appena appena un po' dispersiva in certi momenti, ma rimane sempre compatta proprio nel tessuto del vino, questo è il vino che fa per voi. Molto piacevole, con questa freschezza acida, prolungata da una leggerissima sapidità, che poi te la ritrovi in chiusura, e per via retronasale, tutte le profumazioni fresche, di erbe aromatiche, di fieno, miele, di mela, mela verde, eccetera, eccetera. Come l'abbini? Questo l'abbini con delle crudità di pesce, che fa in aperitivo piacevolissimo. Parliamo di un vino che ha 12 gradi, quindi non è neanche tanto impegnativo a livello di gradazione alcolica. Di conseguenza te la giochi sugli aperitivi, te la giochi su pietanze non troppo impegnative. Comunque sia, grande e piacerezza. Ciao ragazzi.